Per quanto riguarda il mancato rispetto di quello che a nostro modo di vedere è un dovere di segreto e di segreto d'ufficio, dopo aver avuto anche una condivisione con il Presidente del Consiglio Fermi, presenteremo un esposto alla magistratura segnalando quanto è avvenuto. Non riteniamo di dover procedere direttamente a formulare una denuncia vera e propria nei confronti di Gnoti, comunque far presente che c'è stata una palese violazione, io credo che sia un dovere da parte di questo ufficio di Presidenza. Ripeto, si può, e lo dico con grande tranquillità, anche non condividere il fatto che si dovesse mantenere la secretazione nel momento in cui c'è una regola e credo che le regole devono rimanere dei paletti importanti.